Casa Bruschi non è mai stata chiusa o a livello telematico o a livello di incontri dopo che si sono aperte un po' le porte alla possibilità di stare insieme gli eventi si sono susseguiti e stasera inauguriamo una nuova serie di incontri con un ospite di prestigio come il direttore degli uffizi Ike Smith intorno al libro di Federico Dascoli sulla città di Arezzo. Gli uffizi si legano alla Casa Museo di Ivan Bruschi questa sera proprio all'interno della Casa Museo una conferenza che vede la presenza del direttore Eric Schmidt ed è proprio lui ai nostri microfoni ad annunciare importanti novità. La caratteristica di queste mostre ma possono talvolta anche essere un po' di più di mostre degli uffizi diffusi e è finalmente quello che gli uffizi collaborano con i comuni per un'offerta culturale del XXI secolo. Il direttore degli uffizi rimane piuttosto ermetico sulle opere che potrebbero arrivare nella città etrusca intanto si gode il politico della misericordia all'interno della pieve di Santa Maria. Ora se si avvia un percorso di sinergia con gli uffizi direi che è il traguardo che ci proponiamo per diffondere ancora di più l'arte che va non dico ad inseguire il visitatore ma che si pone sempre di più vicino al visitatore quindi un nuovo modo di fare arte museale diffusa nel territorio e quindi per dare fiato a tutto il territorio e vantaggio perché no a tutto il territorio. Su questo la Casa Museo ce l'ha come propria missione e ci auguriamo davvero di portarlo a compimento sempre di più.